bella a tutti ragazzi ragazze sempre io nel tv e siamo su un nuovo video il mio secondo video sul mio favolissimo bellissimo bruttissimo computer come avete visto ho messo anche una intro spero che vi piaccia e niente passiamo al gioco eccomi qui ragazzi siamo su the impossible game non so che gioco è ma mi hanno consigliato i miei parenti i miei cugini e alcuni miei amici quindi non ci resta che mettere play ok ragazzi non so devo prendere questi ah forse devo andare avanti dove non devo arrivare quella bandierina senza toccare questi cosi ok adesso procediamo alla grande procediamo alla grande oh ragazzi questo è un impossibile ok ok ragazzi ok è un poco difficile come giochino corri ok fin qua ce l'abbiamo fatta ragazzi non mi fare brutti scherzi chiamo il nonno di questo gioco e faccio no no tua madre è una zoccola tua madre è una zoccola quindi vado qui vado qui vado giù calmiamoci ragazzi calmiamoci che è solo un gioco che si prende confidenza con leoni tv no 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 ma con me no è impossibile ragazzi scusate ma mi fa incazzare questo gioco cioè è impossibile è impossibile cazzo c'è spero che non non mi non colpisco questi cosi ok ragazzi abbiamo perso qui quindi ok con calma con calma ragazzi no no di nuovo no e dai questa è la seconda volta piano piano ragazzi piano 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 è ancora là seconda volta ok proseguiamo piano no ok per fortuna ragazzi il microfono che mi scende un attimo ok allora non so vai sopra giù sopra vai di qua bravo aspetto qui no no ma sempre allo stesso punto no i criaturi di questo gioco fanno una male morte vero ma no che nervatura già quello di prima vex 2 sex come si chiamava vex 2 vex 2 ciù 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 la già mi stava antipatico antipatico anzi antipaticissimo quindi 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 andiamo pieno ok ok ragazzi ok già un pasto l'abbiamo fatto ok 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 oddio oddio ragazzi ragazzi no no lo sapevo lo sapevo lo sapevo ma è impossibile è impossibile ragazzi forse dico ragazze è impossibile ragazze può essere che non mi craccia e non perdo è impossibile ragazze cioè e che devo dire idea vetti battiti adesso da questo momento non perdo più e Winnie Pooh arriva lui e Winnie Pooh arriva lui e infatti non camminerai più e dai però cioè se mi prende per il fondelli questo gioco mi incazzo mi incazzo cioè è impossibile no adesso basta ma sono serio sono serissimo eh no uffa ma come mi viene come mi vengono in mente qui non passo vero non passo ok quindi ragazzi andiamo qui ragazzi scendiamo giù andiamo qui poi ragazzi andiamo qui no 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 si no si 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 continua 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 si si ma vai no 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 è impossibile ma vai a fare in culo tu le zeppole tua madre tuo padre tuo zio tua nonna familiari tutto è pure la tua professoressa di musica è a caso cioè è impossibile ragazzi è impossibile un gioco come questo allora ragazzi 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 brutti min si si ragazzi si primo passo fatto primo passo fatto ragazzi no no ragazzi ci rinuncio ci rinuncio ci rinuncio eh cioè io ci rinuncio ragazzi perché perché non mi cammina perché non mi cammina ok 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 allora non so perché va così lento comunque di nuovo no no non è possibile cioè non è possibile ci rinuncio ragazzi io ci rinuncio c'è impossibile il microfono che mi sale su faccia yeah lo stavo mangiando ok ragazzi ok 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 di qui di qui ma vai affan culo ma perché il microfono allora ragazzi se mi blocco perché mi aggiusta il microfono che mi cade e me lo stavo per mangiare quindi non vai a fare una cattiva digestione stanotte quindi devo finire questo livello se non lo finisco ragazzi vi porterò un secondo episodio perché mi sta simpaticissimo questo gamer dell'impossible game ma vai affanculo ok ragazzi ok vai vai no ma no ragazzi ma perché no 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 ok se perdo altre 4 volte stop il video una corri 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 2 3 ultima possibilità non voglio perdere non voglio perdere ragazzi non voglio perdere ah solo questo non lo faccio apposta va bene ragazzi io direi che il video può finire qui alla prossima commentate iscrivetevi condividete da vostro nemni tv voi